Siamo con Pietro Ghislandi, ormai in uscita il tuo nuovo film firmato da Pieraccioni che si intitola Il Professor Cenerentolo. Da quando e che ruolo interpreti in questo film? Dal 7 dicembre il film Il Professor Cenerentolo in tutti i cinema d'Italia, ultimo film di Leonardo Pieraccioni, contentissimo di essere stato chiamato da Pieraccioni a interpretare il suo compagno di Cella. Pieraccioni fa una rapina insieme a Ceccherini, finisce in galera e in galera ti trova il compagno di Cella con Cadenza Bergamasca. Un film molto particolare rispetto allo stile Pieraccioni, è un film con una maturità più avanzata, un film dove c'è una vena malinconica che rende un film più, secondo me, internazionale, meno nazionale. Molta recitazione, un Pieraccioni molto attore e un Pietro Ghislandi caratterista che tira fuori la bergamaschità con ironia e con complicità di comicità toscana.